Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del Tg di TV City in apertura. La cronaca siamo a Torre Annunziata, operazione alto impatto di carabinieri e polizia municipale nei rioni ad alta densità criminale rimossi i simboli della prepotenza. Restiamo a Torre Annunziata dove venerdì 22 ottobre si celebra la patrona. Anche quest'anno la pandemia ferma la tradizionale processione del quadro della Madonna della Neve per le strade della città. Ora l'emergenza sanitaria, lieve aumento dei contagi nel Vesuviano sia a Torre del Greco che a Torre Annunziata. Parliamo poi di arte e cultura con l'evento promosso dall'associazione Ex Alunni del Liceo dei Bottis di Torre del Greco con il patrocinio del Comune in programma venerdì al Circolo Nautico. In chiusura lo sport con la Turris, turno infrasettimanale per i corallini contro il Campobasso. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Operazione ad alto impatto a Torre Annunziata nei rioni ad alta densità criminale. In azione i carabinieri della Compagnia Oplontina, gli agenti della Polizia Municipale impegnati in attività disposte dal Comando Provinciale di Napoli, nei rioni del Centro Storico, dal Quadrilatero delle Carceri al Murattiano. Scoperti, rimossi e sequestrati i simboli della prepotenza. Sedi e tavoli ancorati con catene e pali di ferro. Tutti oggetti usati per assicurarsi posti parcheggio sulla pubblica via. L'intervento riporta alla memoria la tragica morte di Maurizio Cerrato, l'uomo di 61 anni assassinato lo scorso 19 aprile al culmine di una lite, scoppiata perché la figlia aveva parcheggiato in un posto in precedenza occupato da una sedia. Gli oggetti venivano utilizzati per occupare abusivamente parcheggi strada. 21 in tutto le sanzioni amministrative elevate per violazione del codice della strada e del regolamento di polizia urbana. Durante il servizio a largo raggio non sono mancati gli arresti. In manette per detenzione di droga è finito un uomo di 35 anni già noto alle forze dell'ordine e la consorte, incensurata di 34 anni. I militari hanno ispezionato l'abitazione dei due dove l'uomo stava scontando gli arresti domiciliari. Trovati 113 grammi di marijuana, la droga era contenuta in due buste che la donna ha tentato di nascondere in tasca. In tutto sono state 96 le persone identificate e 58 i veicoli controllati. Tre assuntori di sostanza stupefacente sono stati segnalati alla prefettura. L'emergenza sanitaria ferma anche quest'anno la tradizionale processione del quadro della Madonna della Neve per le strade di Torre Annunziata. Come per la processione dell'Immacolata Torre del Greco, si tratta di una decisione voluta dalla prefettura e dalla Curia di Napoli per evitare assembramenti che non sarebbero gestibili in alcun modo. Ci apprestiamo a vivere per il secondo anno di fila, un altro 22 ottobre, all'insegna delle restrizioni dovute alla pandemia. Sono le parole del sindaco Vincenzo Ascione, che chiede cautela. Sebbene la campagna vaccinale e le misure istituite dal governo stiano producendo buoni risultati, spiega il primo cittadino, il virus continua a circolare sul nostro territorio, dove solo il 64% della popolazione ha completato l'intero ciclo del vaccino, una percentuale ancora troppo bassa. Negli ultimi otto giorni, inoltre, si è registrato un incremento di ben 44 nuovi positivi. Un dato che, sottolinea il sindaco, ci impone di essere quanto più cauti possibile. I festeggiamenti in onore della patrona saranno dunque all'insegna delle restrizioni e delle limitazioni. Saremo costretti a rinunciare per il secondo anno consecutivo alla tradizionale processione del quadro della Madonna della Neve per le strade della città. Tuttavia, prosegue il sindaco, abbiamo scelto di organizzare iniziative ed eventi che consentano, anche grazie al Green Pass e alle norme sanitarie attualmente in vigore, un maggior controllo del flusso di persone che vi parteciperanno. Per le stesse ragioni, niente bancarelle né isola pedonale. Le circostanze ci impongono di agire per tutelare la salute pubblica. Invito i cittadini a partecipare agli eventi in programma, conclude Ascione, e auguro loro di trascorrere, nonostante le vicissitudini che stiamo vivendo, un sereno e piacevole 22 ottobre. Lieve aumento dei contagi a Torre Annunziata. Secondo l'ultimo bollettino, si registrano infatti 13 nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 48 ore, a fronte di 123 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 10,56%. Non si registrano guarigioni. Sono 64 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono 51.581. L'incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 abitanti nella settimana che va dall'11 al 17 ottobre è pari a 70,12. Sono 4.674 le persone che hanno contratto il coronavirus l'ustratura annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.516 guarite e 94 decedute. A Torre del Greco, invece, nessuna nuova guarigione è stata registrata nella giornata di ieri, certificati due nuovi casi di positività al Covid-19. Muta così il bilancio della 563esima giornata consecutiva di attività del COC. Totale ospedalizzati 12. Totale in isolamento domiciliare 82. Totale guariti dal Covid-6.775. Totale decessi 176. Ciò che sembra è ciò che è. A spasso nei siti archeologici vesuviani con la musica della nostra terra. È l'evento promosso ed organizzato dall'Associazione degli Ex-Aluni del Liceo dei Bottis di Torre del Greco e dalla scuola con il patrocinio del Comune di Torre del Greco, in programma venerdì 22 ottobre alle 18 al Circolo Nautico. Dopo tanti mesi di comunicazione solo virtuale, spiega la Presidente e la Professoressa Carla Laverde, abbiamo organizzato in presenza l'evento, già previsto per lo scorso 30 settembre, ma poi annullato per il maltempo che aveva reso inagibile gli spazi di Villa Macrina. Ripercorreremo una pagina storica del nostro territorio, in cui arte e archeologia ci condurranno alla riscoperta di splendide realtà di pregio e valore internazionale, il tutto accompagnato dalla direzione musicale del maestro Liborio Durzo. Dopo gli indirizzi di saluto degli organizzatori, previsti gli interventi del professore Salvatore Cironappo, docente ed archeologo e del giornalista, nonché portavoce del sindaco Giovanni Palomba, Salvatore Perillo. Giusto è il tempo di festeggiare l'importante successo di domenica contro il Palermo, che subito la Turris scende in campo di nuovo a Vigori nel tunnel infrasettimanale di stasera contro il Campo Basso. I corallini, intenzionati a dare continuità al successo sui siciliani, scenderanno in campo con una formazione che non dovrebbe discostarsi molto da quella dell'ultimo impegno casalingo. Mister Caneo, infatti, sembra orientato a confermare la squadra che sta incantando la tifoseria in questo eccellente inizio di stagione. L'unica novità, infatti, dovrebbe essere l'impiego di Dinunzio, che ha scontato il turno di squalifica rimediato dopo l'espulsione di Bari e che quindi riprenderà il suo posto in difesa. Di fronte ci sarà un campo basso, reddice da un K.O. interno e da un campionato finora molto altalenante. Per la Turis, quindi, una buona occasione per mantenersi in scia delle prime e provare ad allungare sulle dirette inseguitrici. Fischio di inizio in programma alle ore 20. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.